Gian Lorenzo Blengini, l'Apple 1 si chiude in Cina con la seconda vittoria. Una bella partita. Una bella vittoria per due set. Secondo me abbiamo fatto anche una bella partita. Nel terzo set un po' meno. L'abbiamo riempita un po' troppo di errori. Abbiamo faticato tantissimo in ricezione e abbiamo rischiato di complicarcela davvero. Ne siamo usciti, però credo sia subentrata anche un po' di stanchezza perché alcuni dei ragazzi cominciano ad essere parecchio stanchi. Alcuni altri li ho fatti ruotare rispetto alla prima e alla seconda partita perché sono molto stanchi. Soprattutto alcuni dei più giovani che nelle prime quattro settimane hanno fatto anche parecchio lavoro fisico oltre che lavoro tecnico. Però insomma siamo soddisfatti prima di tutto della vittoria e sappiamo che ci sono tante cose sulle quali dobbiamo crescere. Prima tra tutte la ricezione, la continuità in ricezione. Continuiamo a utilizzare tutti i momenti che abbiamo sia in allenamento che in partita per cercare di fare dei passi in avanti. Grazie. 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 Grazie.